Noi sappiamo che relativamente al progetto dell'Area Nord il gruppo di lavoro sui materiali e energie e sulla sostenibilità in generale è stato affidato alla nostra multi utility IREN e in particolare al direttore generale il dottore Andrea Viero che fin dal 2010 ha messo in campo un gruppo di forze, un gruppo di risorse proprio per arrivare ai risultati di questi tempi che rappresentano le ricadute rispetto ai processi di ricerca e di selezione. Io sono Ettore Rocchi, consigliere di IREN Multi Utilini ma qui soprattutto in veste di presidente di IREN Rinnovabili. IREN Rinnovabili, occorre aprire una brevissima parentesi per comprendere, è la società di scopo del gruppo della multi utility IREN dedicata appunto all'energia rinnovabili e alla sostenibilità. È stata costituita e rafforzata recentemente, ha sede e principale operatività a Reggio Emilia ma ovviamente si rivolge a tutto il territorio della multi utility IREN. Per quanto riguarda il processo relativo all'area nord, all'energia e alla sostenibilità è stato trascorso un certo tempo in modo molto fruttuoso a reperire le capacità distintive perché ovviamente non si poteva affrontare il problema con genericità ma occorreva far emergere l'eccellenza del territorio. La prima eccellenza proprio sul campo della produzione delle rinnovabili è stata rappresentata dall'individuazione di alte competenze in sede di sfruttamento del biometano cioè produzione del biogas ma anche sua raffinazione e possibilità di metterli in rete. Sorgerà, e proprio di questo parliamo oggi, un centro nazionale per la ricerca industriale sul biometano patrocinato da CRPA Lab. La seconda competenza distintiva invece è rappresentata proprio dalla riqualificazione degli edifici esistenti e questa competenza distintiva viene curata direttamente da IREN rinnovabili. IREN rinnovabili che ha selezionato e procederà a selezionare un gruppo di imprese e di soggetti interessati che si dovranno rivolgere soprattutto in questi tempi di crisi economica immobiliare alla riqualificazione dell'esistente, non solo per sfruttare le energie rinnovabili ma soprattutto per risparmiare il progetto Negavat. Qui c'è una grandissima valenza sociale ma anche una grandissima valenza imprenditoriale perché solamente su questa linea di business development noi riusciamo a percorrere nuovi settori economici che danno buoni frutti e buona marginalità.